buongiorno a tutti trovo qui alla croce blu i ragazzi del cenacolo stanno togliendo tutto ricordate la madonna e l'altra croce blu è stata tolta stanno pienando tutto e sarà il luogo dove ricorderemo che per 40 anni 39 anni la madonna è apparsa vedete lì la vecchia croce blu non c'è più la pittura sulla croce è stata rimasta la pittura adesso mi avvicino per farvi vedere è una sensazione stranissima cerco di andare piano la sensazione è molto strana ecco è incredibile vi posso assicurare che non c'è più il blu sulla croce però io dal telefonino mentre faccio il video appare il blu è stato pulito ecco qui ma togliete anche la madonna no? metteranno una nuova statua ah nuova statua ecco ho saputo che metteranno una nuova statua che strano ah 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 dipingeranno forse pure una nuova croce una nuova epoca caro saluto a tutti che strano che strano una madonna mi ha voluto qui a vivere questi momenti ero venuta a febbraio a prendere le mie cose infatti ho la mia macchina con tutte le mie valigie sono qui all'Oassi della Pace e per una grazia divina io dico ho sempre preso l'Eucaristia perché il Vescovo Oser l'8 marzo prima di partire per la Polonia portò all'interno della comunità l'Eucaristia e in più due sacerdoti che sono rimasti anche loro qui quanta grazia volevo condividere con tutti voi verrà una nuova statua questa chissà forse dove andrà un caro saluto a tutti